Ben ritrovati a Emozioni di Neve, la rubrica che vi porta sulle piste da sci del comprensorio Ponte di Legno Tonale. Oggi in particolare vi vogliamo portare alla scuola di Sled Dog, ci troviamo al Passo Tonale, la scuola la vedete alle mie spalle, si trova lungo la pista Tonalina, è stata la prima scuola di Sled Dog ad aprire in Italia, ben 35 anni fa. Andiamo ad incontrare e a conoscere Armen Kacikian che è il direttore della scuola e Ryan che è un ragazzo che dall'Alaska ha deciso di venire a vivere qui per lavorare e vivere in questo meraviglioso ambiente naturale. In 35 anni di attività ne hai vista di gente qui allo Sled Dog, quali sono le storie più curiose che hai visto e che puoi raccontare? I cani hanno visto socializzato con migliaia e migliaia di persone, ogni tanto mi chiedo dentro la loro mente come fanno loro a non incavolarsi mai con tutti quei tipi di personaggi che hanno educato ad andare in slitta. Però l'animale socializza molto soprattutto con i bambini per cui hanno un carattere, un'indole da lavoro, sono amici nostri, fedeli dell'uomo ma noi li curiamo benissimo e le persone che arrivano qui e migliaia di appassionati che vogliono finalmente imparare ad andare in slitta capiscono questo e tentano nella loro ora o nelle loro due ore di dare le stesse cure che noi diamo ai cani. Questo è proprio l'ambiente ideale per questi cani? Eh certo perché comunque l'ambiente a 2000 metri di altezza è un ambiente naturale, senti non c'è un filo di odore dei cani perché i cani comunque vivono su dei terrazzamenti dove il liquame scende e drena. Le loro cucce sono a palafitta, sono rialzate, sono tutte con paglia bella fresca, la prendiamo a Bologna, la paglia dolce buongrano. L'ambiente comunque, la neve favorisce le loro zampe come anche sul mare di Bering quando attraversi il mare ghiacciato il ghiaccio salato aiuta l'eventuale abrasione dei cani. Qui i cani non hanno nessuna abrasione perché il loro polpastrello è a diretto contatto con la natura, con la neve, né con cementi né con ambienti acidosi o piastrelle o cose che creano pore e germi e batteri. Vogliamo insegnare, vogliamo dare l'opportunità di guidare le slita con i cani, quindi c'è sempre un maestro davanti con la motoslita, ogni partecipante avrà l'opportunità di guidare la sua propria slita e poi è il loro lavoro di rallentare, di controllare la velocità dei cani e di godere la natura, di lavorare assieme con i nostri amici. In quanto tempo si può imparare? Proprio dipende, i bambini si prendono abbastanza veloce, per loro 20 minuti basta, ma per noi adulti forse 30, ma in una giornata, in una mattinata possiamo insegnare bene. I bambini a partire da quale età possono iniziare? Normalmente iniziano alle 7 o alle 8, dipende dai bambini, ci sono anche i bambini a 6 anni che sembrano bei tosti ma per la sicurezza è meglio aspettare a 7-8 anni. Riescono da bambini a guidare queste slitte normale, loro fanno sempre meglio dei genitori, è sempre divertente a vedere il papà bravo cadere quando la piccola figlia va sempre veloce e brava. Tu hai preso una decisione importante, ti sei trasferito dall'Alaska per venire in Tonale, sei soddisfatto della tua scelta? Come ti trovi qui? Io sono super soddisfatto, io ho i miei amici giù a Ponte di Legno, a Tonale, la cultura qua è super importante, la disponibilità delle gente per condividere questa cultura con me, io sono sempre stupito, sono contentissimo e devo ringraziare tutti, sono contentissimo qua. Tu adesso qui hai 29 cani e dopo tanti anni finalmente è arrivato anche un nuovo cucciolo. Eh, Zenope è stata una sorpresa bella, desideriamo tanto di avere dei cuccioli ma è come quando in una famiglia si vuole i figli e non arrivano, lo stesso è qua nel branco. Però adesso abbiamo deciso, assieme agli amici e soci che collaborano assieme a me, che dobbiamo comprare assolutamente almeno due nuovi bei cani dallo Yukon Territory, dove sono andato in Canoa nella prima mia avventura, nell'83. Per il momento Zenope è la mascotte. È la mascotte ed è l'amico di tutti. Marco Mosconi, direttore della scuola sci Pontetonale, che cosa avete organizzato per Carnevale? Per Carnevale abbiamo organizzato delle feste sugli sci, quindi premieremo le maschere più belle, i bambini vestiti in modo migliore all'interno del Parco Fantaski per i due fine settimana, dalle 14 in poi. Vedremo questi bimbi vestiti, vestiti sulla neve per mettere più gioia ancora a quello che si va proprio sui campi da sci. Bisogna partecipare alle gare con il costume di maschera, con il costume di Carnevale. Assolutamente, si verranno premiati proprio i costumi migliori, quindi bambini venite, vi divertirete tantissimo, ma penso anche i vostri genitori, ci sarà una sorpresa anche per loro. Sabato 22 inizia anche un'attività molto interessante che organizza la vostra scuola da qualche anno, l'All Day, ce lo puoi raccontare? Prendiamo i bambini dalle 10 fino alle 16 del pomeriggio, così vivono dei momenti veramente fantastici insieme ai maestri, al rifugio, è un bel momento di aggregazione, è un bel momento di crescita per tutti i bambini. Vi aspettiamo numerosi, informazioni a InfoChioccio alla scuola sci pontetonale.com. Mauro Bertolini, direttore della scuola sci tonale Presena, cosa organizza la vostra scuola per Carnevale? Allora, Carnevale arriva adesso, quindi tantissima ancora bella neve, giornate spettacolari, le giornate si sono anche allungate, quindi vedete un sole bellissimo fino alle 6 la sera. Dopo per Carnevale adesso organizziamo la fiaccolata qui sulla Valena, il mercoledì sera alle 5 possono partecipare tutti, non solo chi partecipa alla scuola sci, ma qualunque bambino che sia il tonale con i propri genitori e da voglia di venire viene qua alla Valena, alle ore 17 ci sarà il truccabimbi, ci sarà la cioccolata calda, frittelle per tutti, poi saliamo in alto alla Valena, aspettiamo che faccia un po' buio e scendiamo con le fiaccole con tutti i bambini. Quindi mi raccomando, vi aspettiamo qua alla Valena, non solo perché è scritto alle scuole sci, ma per tutti i bambini del tonale. Ex, cosa ci dobbiamo aspettare qui a Fantaski per il fine settimana di Carnevale? Ah, tante belle cose perché faremo tanti belli eventi, da legare con i bambini per i bambini, faremo eventi anche per i grandi, ci sarà BB Dance e verrà premiata anche la maschera più bella del passo del tonale del Fantaski. A che ora? Dalle 2 in poi, quando abbiamo il sole bello caldo e si sta tutti quanti bene, visto il tempo che c'è oggi, qualche sdraio, maglietta maniche corte e si sta molto bene al passo del tonale. Queste attività verranno proposte esattamente in quali giornate? Allora, verranno fatte per tutto il prossimo weekend, quindi sta parlando di sabato e domenica e poi 29 e 1 marzo, faremo tutta la settimana in Carnevale, tutti quanti in maschera, qua al Parco Giocchi, il Fantaski. Quindi tutti, bambini ma anche adulti, chi partecipa alle gare ma non necessariamente, sono invitati a presentarsi qui e la maschera più bella verrà premiata. Per quanto riguarda il Carnevale vi voglio ricordare due appuntamenti ulteriori. Il 23 febbraio, spettacolo con le marionette di ghiaccio del puparo Mimo Cuticchio. Si tratta di un puparo siciliano che tramanda questa antichissima tradizione e la sua sarà un'anteprima mondiale. Sarà infatti la prima volta che si esibirà con le marionette di ghiaccio, dove ovviamente all'interno del nostro EQ Ice Dome, sul ghiacciaio Presena. I biglietti possono essere acquistati sul nostro sito www.pontedilegnotonale.com Lunedì 24 festeggeremo il Carnevale sulla neve. Alle 20 e 30 appuntamento per tutti a Ponte di Legno, al Campo Scuola Cida, dove ci saranno la fiaccolata dei maestri di sci, la baby fiaccolata e poi spettacolo circense, trampolieri, tanta musica e divertimento sulla neve, tutti insieme. Infine altri due appuntamenti che non hanno nulla a che fare con il Carnevale, ma che vi potranno offrire degli spunti interessanti per trascorrere delle belle giornate. Si tratta delle cascate di ghiaccio di Vezzadoglio in programma per il 22 febbraio, quindi la possibilità di andare a vedere queste cascate nel fondo valle di Vezzadoglio, ce ne sono alcune veramente molto molto particolari. Questa attività è organizzata dalla Proloco di Vezzadoglio. Sempre il 22 invece la sera ci sarà la Winter Sky Night, quindi un raduno di sci alpinismo con partenza alle 19.30 dal Palazzetto dello Sport di Ponte di Legno. Per questa settimana è tutto, io vi saluto, vi aspetto qui sulle piste e vi do appuntamento online e in televisione alla settimana prossima. Grazie a tutti.